Ora passiamo all'economia cinese, con un deficit di quasi un trilione di dollari. Questo è il divario tra la spesa e il reddito delle province cinesi nei primi otto mesi di quest'anno. La cifra segna la disparità più ampia degli ultimi dieci anni e non solo riduce la capacità delle autorità locali di finanziare progetti infrastrutturali, ma aumenta anche il rischio per la seconda economia mondiale nel suo insieme. I dati arrivano in un momento già difficile con l'economia globale che vacilla sotto i rischi di recessione e le tensioni tra Occidente e Cina in aumento. All'interno del partito comunista cinese, i leader dello stesso partito stanno promettendo di mantenere i rigorosi blocchi spinti dal COVED. Le misure rigorose portano alla chiusura di fabbrica, alla chiusura di attività commerciali e confinare i residenti nelle loro case. Oltre a questa spesa aggiuntiva per contenere i focolai di virus, le finanze locali sono indebolite. Le branche locali del governo del partito comunista cinese sono state a lungo un innesco per la crescita della Cina. A questo punto sono in gioco due importanti settori per fare soldi. Il primo è la vendita di terreni. In Cina tutta la terra appartiene al paese, cioè al partito comunista cinese che lo governa. A differenza di altre nazioni, quando le persone acquistano terreni in Cina, in realtà non possiedono il terreno. Stanno semplicemente acquistando il diritto di usarlo per un certo numero di anni. Essendo gli unici proprietari terrieri in Cina, le autorità di diversi livelli traggono enormi vantaggi dalla vendita dei terreni. Il secondo settore in gioco è quello immobiliare, ma negli ultimi anni le vendite hanno subito un rallentamento, poiché le società immobiliari molto indebitate si affrettano a ripristinare la propria salute finanziaria. In passato i disavanzi a livello locale erano ampiamente compensati dal partito comunista centrale e dalle eccedenze degli anni precedenti, ma gli analisti affermano che il raffreddamento della crescita economica questa volta potrebbe limitare tale aiuto. Per contrastare questa pressione finanziaria, alcune province stanno licenziando i lavoratori statali. Alcuni hanno anche spostato l'onere sui cittadini, imponendo multe elevate alle piccole imprese. Secondo il media cinese Yi Sai, le entrate del governo locale derivanti da multe e confische sono aumentate di oltre il 10% nei primi sette mesi rispetto allo scorso anno.